ciao followers che faccio con questi li tengo si li tengo benvenuti in questo nuovo video un video che parla di amsterdam tanto per cambiare no meglio un video che parla di un weekend ad amsterdam andando in macchina senza prenotare niente perché si nel tentativo di viaggiare molto di più e spendendo meno io e i miei intelligentissimi soci ci siamo inventati un metodo di viaggio che garantisce risultati eccellenti sempre ed oltre ad essere assolutamente geniale è anche davvero semplice da realizzare perché prevede di prenotare solo il volo e di noleggiare solamente l'auto quando si va in viaggio solamente che questa volta devo dire abbiamo portato un po' l'esasperazione perché non abbiamo portato davvero niente niente perché non abbiamo utilizzato un volo siamo andati in auto e l'auto non l'abbiamo noleggiata perché era la mia cabron bella raga iscrivetevi a questo canale se volete vedere video di viaggi on the road motori e cose geniali iscrivetevi sul serio è geniale e ho anche cambiato studio vedete la location nuova questo è il mio studio di registrazione no non è vero ci vivo cioè questa è la cucina fa schifo vedere tutto quello che c'è dietro però vi do il benvenuto in questo angolo di paradiso tutto blu ma vediamo di dare un po' di numeri su che cosa potete aspettarvi quando fate un weekend ad amsterdam partendo in macchina il venerdì sera circa le 17 e tornando il lunedì mattina circa le 3 di mattina vediamo ce li ho qui 3200 chilometri in macchina 15 chilometri a piedi almeno 10 di quali in un quartiere luci rossi 600 euro di prenotazione persi 600 euro ritrovati 8 strutture interpellate al momento per trovare un alloggio non avendo prenotato un cazzo tre musei visti un berretto perso zero piatti tipici assaggiati un tallone distrutto e dulci in fondo una sboccata sulla porta di camera una sboccata altrui non era nostra e su questa cosa mi dispiace davvero non avere reperti delle stories di instagram perché ero veramente tardi e ero veramente stanco ero veramente stanco non avevo voglia di scendere dal letto quindi non sono sceso a fare filmati e stories e puttanate varie su un tizio che mi ha sboccato sulla porta di camera ma ero fortemente tentato come non ci sono proprio fotografiche né video di quello che succedeva durante diciamo le serate ma mi sembra più che plausibile perché cioè non siamo qui per accusarci a vicenda di cose e tutto questo per un totale di 654,88 euro giusti eh a testa abbiamo utilizzato per la prima volta splitwise per calcolare questa cosa invece del foglio di calcolo che facevo io su google drive di cui non si fidava nessuno chissà per quale diavolo di motivo comunque splitwise ragazzi scaricatela è ottima per dividersi le spese velocissima semplicissima e mi sembra faccia anche i conti giusti ma oltre a questo non abbiamo imparato niente assolutamente niente perché di fatto i musei che siamo andati a vedere non erano quelli che volevamo cioè sicuramente quello di Banksy bello da vedere sicuramente la Heineken Experience è una roba da fare però se volete vedere un bel museo su una storica sede di produzione di birra vi consiglio tutta la vita la guinness e sicuramente il museo della prostituzione bisognava andarlo a vedere perché c'è bisognava andarlo a vedere gli altri musei quelli veramente fighi tipo quello di Van Gogh e di altre cose che non sto qui a dirvi perché viaggi culturali e no gastronomici sì ma fino a un certo punto non siamo riusciti a entrarci perché serviva ovviamente la prenotazione e noi non avevamo prontato neanche da dormire quindi figuriamoci dove vuoi andare con tutto il mondo che c'è ad Amsterdam a vedere il museo di Van Gogh ma è il bello della diretta ma io mi sono comunque portato a casa qualcosa da questa città sicuramente che il cactus è stato un ottimo investimento perché ci ha consentito di guidare comodi e abbastanza disinvolti per tutti quei chilometri sicuramente che un minimo di più nella vita dovrei iniziare a pianificare perché poi mi porto via le scarpe sbagliate e lascio pezzi del mio corpo in Olanda sicuramente che se un paese che vuoi visitare ha una cucina tipica di dubbio gusto puoi sempre affiondarti su un ristorantino argentino a mangiarti della carnazza davvero molto buona ma soprattutto che Amsterdam è una città davvero bella piena di canali e architetture molto belle e poi ci sono i canali canali molto belli canali ovunque guardate come sono belli ma soprattutto gli usi e costumi locali del tutto legali che consentono ai turisti di intrattenersi in attività ricreative fino al punto di vomitarsi sulle porte di camera a vicenda tanta roba se volete dei motivi migliori di questi per andare a visitare Amsterdam sappiate che è molto bella ed ha dei musei ed ha dei canali molto belli guardate che canali molto belli davvero ed è accogliente perché anche se sbaglia a prenotare la camera e invece di averla il 31 ottobre in reception risulta al 31 dicembre beh un posto letto in un ostello a due passi dal red light di street te lo trovano e poi ti vomitano sulla porta l'ultima notte e con estremo disappunto è il momento di chiudere ciao ragazzi divertitevi e non vomitate mai sulla porta degli altri turisti il bello della diretta